Per me, I'm the lucky one and I am, I am, I am the lucky one and I am, I am, I am, I am Per me, I'm the lucky one and I, I can meet me again, you told me I'm the lucky one Ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questa nuova gameplay di Skyrim, qui col vostro Vale 93 Ba Allora, l'ultima volta stavamo facendo un miscuglio di missioni finché abbiamo trovato questo tipo Che ha parlato della casa abbandonata che abbiamo visto durante il tragitto E io non mi sono potuto tirare indietro e eccoci A quanto pare si E quindi com'è Jam? Eh? Veramente no Credo che dovrò preparare le mie armi Oh, si è spenta la luce? Così di colpo Barile, sei tu Perché io? Aspetta, sento dei sussuri Stendars, mercato Questo non è un ordine di teatro Abbiamo bisogno di aiutare Eh? Vecchio Eh? È veicchio Tu sei forte Cresci Ma che? Che cazzo Barile? Cosa vuoi da me? Barile? Smettila di dirmi queste brutte cose, barile Oh! Wow Ma dove sei? Oh Che cosa dobbiamo fare? Ma il barile mi ha detto Aspetta un attimo Oh mio Dio Ah! Sedie! Cosa ci fate qui, sedie? Ha parlato di Daedra Dovei seguire il consiglio del Daedra? Proviamo Già È inutile che tenti, amico Sono molto più forte L'ha detto anche il Daedra Oh! Spero che tu non sia il barile Perché in quel caso Sarei molto in disappunto Molto in disappunto Ah, ehi Prendiamoci ste cose giusto Perché ci piacciono Bene Dopo aver depredato il cadavere di Questo tipo Direi che Quante cose in questa casa Ok, barile Non provare a farmi scherzi Hai capito? Qui? Oh, non è più chi c'ha chiave Barile? Da altri barili Ah, oh mio Dio Sono pieno Pieno di barili Oh, ehi Aspetta Nelle... Oh, beh Se si parla di premi Eccomi Che cavolo Non mi piace C'è questa cosa Prendi mazza arrugginita? Che c... Che cazzo Che cazzo C'è un altar? E' un altare? Una mazza arrugginita? Vedo solo gli spuntoni di questa trappola? Credo la mazza Amore Non mi piace questa storia. Vuoi vendicarti di Boethian? Boethia. Revenge? No. I want submission. I want the priest who did this to bend his knee and give me his soul. Oh wow. He comes by to perform Boethia's insulting rights at my altar, but he's been missing. Captured and bound. Left to rot. Save him. Let him perform his right one more time. And when he does, we will be waiting for him. We? Noi? Sicuro? Ehm... Non sono sicuro di volerlo fare. Ehm... Ok. Credo sia... Una missione secondaria? Tipo? Proviamo a vedere. Ah, ecco. Trovo il sacerdote di Boethian. Ah, penso che lo farò più tardi, carissimo Molag Bal o come diavolo ti chiami. Ah, sono molto contento. Alla fine non era un barile che mi stava sussurrando quelle cose nell'orecchio. Il che è un bene. Io e i barili non andiamo d'accordo. E mai andremo d'accordo. Ok. Ehm... Mi spiace amico ma io, ecco, devo andare. Ok. Bene, bene, bene. Prima di questa ennesima interruzione, Stavo andando verso... Ecco, di qua. Stavo andando... Ups, no. Mi sa che devo andare per forza di là. Io... Ok. Stavo andando... Qui. Fortezza. Uhuh. Vediamo un po' cosa ha ad offrirci la fortezza. Ce la facciamo entro? Non lo so. Dopodomani? Hm? Avrei un piccolo impegno. Ah, caricamenti! Why you no go faster? Vabbè, ho capito, interrompe appena... Ah no, ok. Ottimo. Ehi la! Come va? Come va? What are you hiding, priest? I'm not hiding anything. It's closed for a reason. Typical imperial lies. First you take away Talos. Now you're keeping us from seeing our honored dead? You and the Jarl will answer for any desecration of my ancestors' bodies. That's enough, Thongbor. We're done. Mhm. Che è successo, amico? It's about the hall of the dead. No. You can't go in there. Perché no? Dimelo. I can't talk about it. Rest assured, the Jarl hears everyone's concerns. You will be able to visit the dead again soon. Hmm. Potrei anche aiutarti. All right. I was going to suggest that Jarl hire someone to sort this mess out anyway. We've discovered that some of the dead have been eaten. Oh. The flesh has been chewed off. The bones were snapped to get the marrow inside. We haven't caught anyone or anything yet. It's like it knows when I'm there. If you can get to the bottom of this, the priesthood of our cave will reward you. Take my key and be careful. Non me ne frega niente. We don't know what's in there. Quale sarebbe la sala dei morti? Questa? Oh, ehi. Fico. C'è un tipo. Ehi, tipo. Ok, sei inutile in poche parole. Ehi. Ah, ok. Allora, questi sono... Gli scavi. Sito degli... Anzi, prima voglio comprare. Magica. That's what they always want. Never history. Never... You idiot. Do you even know who I am? The most recognized scholar on the Dwemer in all of Tamriel. Ma che me ne frega a me? Dammi i miei cantesimi. I... I'm sorry. I... I got too excited. I'm in the middle of some very stressful work. And I shouldn't have yelled. Dopo farò qualcosa anche per te, vecchio. Ma adesso... Che cosa vendi? Blah, 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 blah. Ok. Allora. Libri. Nani. Tomo magico. Bandisci da Edra. I da Edra deboli avvocati vengono ricacciati nobili. No. Mmm... Calma. No. Canne di pietra no. Canne di craccia no. Chiara veggenza. Coraggio. Cura. Cura rapida. Dardo elettrico. Dardo di fuoco. Difesa minore. Evocarco. Questa sì che è una figata. Ascia la guerra. Antorace del ghiaccio. Della fiamma. Aspetta. Ghiaccio e fiamma. E... Fulmine. Draugr. Famiglio. Spada. Fiamme. Furia. Luce di candela. Mani corretive. Paura. Punta di ghiaccio. Che è? Revenant. Rianima un cadavere potente affinché combatta al tuo fianco. Credo di avercelo già. Rianima cadavere. Luna del fulmine. Luna del fuoco di ghiaccio. Ok. Bene. Perché a me non mi servono vestiario nemmeno bla bla bla. Ok, Castelmo. Mi piacerebbe vedere il sito degli scadi. Oh, molto bene. Chi sono? Stando in un modo giro. E io ti metterò in se avversi a qualcosa per me. C'è una spada gigante in una scena. I miei lavoratori chiamano Nimi. Il poesone. Se ti metterò con Nimi, ti metterò in sia l'escavazione e il mio museo di dwemer. Che dici? Ottimo. Quello ragno è bello che è morto. Entusiasmo. Bene. Qui c'è il clave al sito di digg. Ok. Ah, grazie. Molto simpatico. Immagino siano questi gli scavi. Oddio. Troppe missioni al momento. Leggenda prebita. Chiamata di Boetian. Ah, ecco. Uccidi. Esplora la sala dei morti. Sì. Ok. Direi che... Devo ancora togliere... Ricordare i morti. Qualcosa non quadra. Tu sei qui per vedere l'escavazione. Non si muove. Non si muove. Ecco, sito degli scavi di Nunchwandzel. Ok. Quel ragnaccio ha i giorni contati. Signori. Non preoccupatevi. Ci sono io che vi proteggo. Anche se anche a me i ranni fanno schifo. Schifo, 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 schifo. Non più di tanto, dai. Allora, libri. Vediamo di imparare quel... Coso. Evocarco. Fuck yeah. Così adesso... Ops. Possiamo... Dunque, evocazione... Ecco, evocarco. Yeah. Allora. Barili. Perché siete sempre nel luogo del delitto? Qua non c'è nulla. Oh, ehi. Qui c'è qualcosa. Ah, ok. È l'unica via che posso percorrere. Fantastico. Il nulla. Ok, ranni schifosi. Non fatevi vedere e andremo d'accordo. Davvero, davvero, d'accordo. Sembra che non ce ne siano al momento. Al momento. Ok. Dire che non c'è nessuno qui è un eufemismo. Barili. Siete sempre voi. Oh, ehi. Vena di ferro. Ma non mi interessa. Oh. Eccolo. Aspetta un attimo. Evocarco. Vediamo un po'. Oh, no. No. Non è una bella cosa, ragnaccio. Uè. È fortissimo l'arco. Ok. Arceria aumentata. Sono un gran figo. E voi ragnacci schifosi andate a quel paese. Ok. Non c'è problema. Oh sì che c'è. Ok. Ehm. Eeeh. Schifo. 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 Fatemi passare Cavolo Come diavolo faccio a passare da qua? È l'unica via, giusto? Ok Ho capito Fiamme Ce le ho? Esatto Oh ehi Ci è mancato poco Oh silenzio Sto facendo una cosa molto importante Ok dai Non c'è problema Non c'è problema Che cazzo C'è problema C'è problema Ci sono tanti tanti problemi Oh mother of god Era anche bruttissimo Crepa 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 Oh si Che schifo Cos'hai? Non ha nulla Schifo Oh ehi E questo? È un imperiale Che è? Aletius Ci hanno affidato del Bla 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 Vabbè Cose inutili Ok Dopo essermi disfatto di quella ragnone gigante Che schifo Direi che posso Definitivamente Ritornare Dal tipo Vorrei che ci fosse un modo più veloce per ritornare Che è? Perché? Perché la mia vita Sembra essere Attentata in qualche modo Boh Ok Oh Che è successo? Io non ne so nulla Andiamo Stavo dicendo Che Vorrei che ci fosse un modo per ritornare più in fretta All'inizio dei dungeon Perché non è una cosa brutta Poter esplorare tutto quanto Più che altro è noioso una volta che Ti sei fatto chilometri e chilometri di strada E non c'è altro modo se non ripercorrere tutti i tuoi passi Comunque Mi chiedo come mai poi Evocare un arco faccia sentire tutto il frastuono Ai nemici vicini Penso che non lo userò così spesso Spesso Ok Castelmo Io ho fatto la mia parte Ora tu fai la tua Dove sei? Eccoti Ho ucciso Nime Ah, ormai è andato Grazie molte Ho trovato questo diario di una spedizione Oh, veramente? Hmm Questo sembra come qualcuno di Stabin's Little Group Un scuola bravo Ma non molto wise Eh già Lo credo anch'io Ciao Ok Di qua dovrebbe esserci di altri scavi? Hmm? Questo è un libro? Antenati e Doom Hmm 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 Ok non mi ha dato nulla Perchè l'ho letto Boh Salve Posso andare? Oi Bene Hmm 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 Quindi Subito Evoca arco Chi è? Chi è? Un altro dieder malvagio? Eh Eh? Di che stiamo parlando ragazza? Stiamo parlando della stessa cosa? Stiamo parlando della stessa cosa? Ragazza? Ragazza? Questo dove porta? Markham No Non devo andarmene Io devo rimanere Eh Ah Mio Dio Che cazzo Ma di che stiamo parlando? Non sono un cannibale Che stai cercando di farmi? Colpa? Di cosa stai parlando? Facciamo finta di non capire va? Sono cannibali Ottimo Dov'è questo posto? Così vi ammazzo tutti Ottimo Andiamo a Valer Verlus Che è la sala dei morti È sicura Bene 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 Eini Mini Maini Mo Oh Pietra della Dama Quasi quasi Hmm Quasi quasi Dovrei cambiare Nella Pietra della Dama Ripristina Salute E vigore Quindi Più velocemente Di quanto Non possa imparare Le arti A una mano Muoviti Caricamento Bastardo Oh Aspetta un attimo No Fuck Devo ritornare Ah Devo parlare Con quel tizio Questo sì che è un Un brutto affare Brutto 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 affare Perché? Ok Mi sa che me la devo rifare Tutta indietro Vedete ragazzi Cosa intendevo? È una Rottura Di palle Ah Fortezza di Anderstone Comunque È troppo figo Il fatto che Quella è diventata Invisibile Voglio impararlo Anche io Ehi la C'è nessuno? Caricamenti? Non è che potreste Lasciarmi giocare? Trenta minuti dopo Io sto ancora qui Ad aspettare Se Ah ecco Grazie Grazie molto gentili Ehi l'amico Ora la sala dei morti Al sicuro Oh grazie amico La moneta di Akai Ce l'ho già Ma chi se ne frega Vabbè Adesso Immagino Che possiamo uscire E Uscendo Ragazzi Io vi dico Che finisce qua Questa nostra Gameplay Ricordate di mettere Mi piace Commentare Mettere nei preferiti Se volete Perché mi aiuta tanto Iscrivetevi Se vi va E un ciao Dal vostro Vale93ba Ciao Ciao